Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo una strada partita, ho giocato a Giuseppe e due due squadre. Giuseppe, oggi siamo andati a fronte, perché se avessimo giocato nel corso di borsa avremmo vinto i punti per la prima finale. Abbiamo fatto una questione molto bella e importante, abbiamo creato molto piacere da gol. Mi ricordo che abbiamo anche fatto, e quindi devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grandissima patria. Grazie. 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 Non credo. Quando giochi non credo è un'occasione. Contro una grande squadra hai creato un sacco di gol. Anche nel finale abbiamo cercato fino alla fine di finire la partita senza perdere tempo. E' un gol. L'avremmo fatto. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.